Ero curiosa di provare la card perché ho avuto un incidente stradale e sono avvitata e quindi è una situazione comunque abbastanza compromessa a livello muscolare e sono rimasta piacevolmente sorpresa perché diciamo avendola passata ho sentito proprio una sensazione di release, di tensione, proprio non di leggerezza ma insomma ho sentito un cambiamento, confrontarmi con colleghi che hanno magari molto più esperienza di me sia in umana che in vetrinaria, capire meglio il campo di applicazione, poi mi piace molto fare medicina preventiva perché io mi occupo anche di rimozione protetta di metalli pesanti quindi che tutte le patologie correlate a metalli pesanti quindi dalla neurodegenerazione mi affascina molto il campo della prevenzione e quindi parto da questo per cercare di curare i miei pazienti. Sicuramente inquadrare con S-Drive è un colpo d'occhio diciamo generale sul paziente, quello che ho visto dai prima ai dopo dei trattamenti dei colleghi che hanno presentato i loro casi e non potresti mai immaginare che con un bubo e un copello in dieci minuti c'è un qualche cosa che magari va a sondare ciò che non è stato mai indagato e per cui tante volte ci sono queste patologie che rimangono per anni latenti così il paziente non spera neanche più di uscirne e poi invece tac, ma giudicamente si risolvono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.